E aspetta il turno tuo e non ti muovere, eh? Bene. Ecco qui la targa. Fatela mettere davanti, eh? E quella di dietro! Ma basta quella lì, vai, vai. Gustavo Settecase detto Caciotta. In coda. In coda. Gustavo Settecase detto Caciotta. Ho detto in coda. In coda. Chi è stato? E che ne so, con tutta sta gente che c'è qua dentro sappia proprio come...